Il Napoli, campione d'Italia, può vincere la Champions League? Forse manca qualcosa. Che cosa? E allora ho pensato, prendiamo Ozyman, trascinatore capocannoniere di questa Serie A e rendiamolo un gigante! Eccolo qui! Ozyman! È Ozyman ma gigante, alto il massimo possibile. Lo andiamo a sostituire con l'Ozyman originale e proviamo l'assalto alla Champions League. Riuscirà il Napoli con Ozyman gigante a vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie? Scopriamolo! Salve a tutti ragazzi e bentornati mai in Shosha con Ozyman! È Ozyman, è lui, guardatelo, è lui. Solo alto due metri e più. Riuscirà a farci vincere la Champions? Qualcuno dice con un altro arbitro, chissà. Proviamo a fare questa sfida. Si lo so, la sfida originale è un po' diversa. Il format prevede ogni gol, ogni partita di alzare di qualche centimetro il giocatore. Però l'ho sempre trovato un po' troppo macchinoso. Ma è il bello di prendere ispirazione e rielaborarlo a nostro modo. Ma se avete nuove sfide suggerite mele sotto nei commenti. Ma adesso iniziamo. Siamo nel gruppo A con Ajax, Liverpool e i Glasgow Rangers. Incredibilmente il Napoli è passato come primo devastando tutti. Il cammino del Napoli in Champions League quest'anno è stato bello importante. Quindi fare meglio sarà difficile. Ma con quello Szyman particolarmente alto, chi lo sa ragazzi, si inizia. Oh, oggi non c'ho la voce, perché? Eh, l'ho persa nei festeggiamenti. Allora ragazzi, la formazione è questa. Con Paraskelia a destra. Sì, certo. Sono manco più a destra e alla sinistra. Paraskelia, Lozaino e Cosyman. Perché lo dobbiamo differenziare un po', no? Poi Zelisky, Lobotka, Zambonanghissà. Kim con lo stesso overall Dracmani. Sta un po' così. E poi Capitano Di Lorenzo e il maestro Mario Rui. Secondo me già così abbiamo una buona possibilità. Gli overall sono aggiornati, quindi qualcuno è anche più forte rispetto al gioco iniziale. Però io mi porterei pure Giacomino. Madonna ragazzi, Raspadori c'ha 27 di difesa, ok? Che fa l'attaccante, però. Prima partita contro i Glasgow Rangers. Cercheremo di intervenire il meno possibile. Però ve lo voglio mostrare bene. Si va con una simulazione veloce perché ho fiducia nel Cosyman nazionale. 2-0, non segna Cosyman, perfetto. E gioca pure discretamente. Lobotka 9. 2-0, si parte alla grande. Il Liverpool ha vinto. La prossima partita è a Liverpool con il Liverpool. Questa si gioca, vi mostrerò Ozyman. Sarà difficile fare meglio del Napoli, come detto. Non so, ha vinto a Anfield. Io ricordo che ha dominato il girone. È stata una squadra tra le più belle d'Europa. Non è lui Ozyman, attenzione. Ozyman è quello lì dietro, non so, avete visto? Tipo lo Slender. Vediamo se passa. Vedete? Oh, che figata. Guardate i giocatori che toccano la scritta Anfield. Vediamo un po' se passa Ozyman. No, non l'abbiamo visto. Capitano di Lorenzo. Primo capitano dopo Maradona ad avere alzato il tricolore. Non so, penso glielo daranno alla fine del campionato. Cioè, all'ultima partita. Non lo so, non sto ben seguendo. Eccolo Ozyman! Altissimo! Pensavo, ragazzi, che poteva essere ancora più alto. Mentre il massimo sono due metri. Però guardate che pennellone. Vabbè, Lozano, voglio dire. Cioè, prendi sta penna, è più alta di Lozano. Possiamo sfruttare anche le fasce. Considerate, nella realtà, se Ozyman fosse alto davvero due metri, con il salto che ha, il colpo di destra che ha, sarebbe un giocatore clamoroso. A parte che è stato un giocatore clamoroso, sicuramente un grande trascinatore. Il Liverpool è ben piazzato. Noi ci giochiamo in momenti clou e chi segue la carriera sa... Vabbè, vediamo come va, ragazzi. Punizione per il Napoli, capito? Punizione da centrocampo. Vabbè, vediamo che possiamo fare. In realtà potremmo pennellarla sul buono Ozyman. Vediamo. Lobocca. Sì, sì. Varaschelia, varaschelia, varaschelia. T'ho visto, Ozyman. Ho visto, Ozyman. No, no, levati! Il Liverpool si invola in solitaria. Ma perché stiamo così scoperti? Oh, Diogo Giotaro. Dai, Mario! Maestro! Ma è maestro! Che chiusura incredibile! Si arriva in contropiede. E qua, ragazzi, è 4.2, quasi 3, eh. Vai, Lozano. Oddio, piazza palla. Bravo, Lozano. Guarda, Ozyman, tutto solo lì in mezzo. Ozyman! Oh, no! Che mi ha preso? Come me l'ha presa? Ma sei alto 7 metri, ci devi andare di testa. Tuffandato in catapulta. Ma che caspiterina hai fatto? Soprattutto, ma che mi ha parato, coso? Niente, è perduto. Palla pennellata verso Cosyman! Oh, no, esce, ragazzi. Secondo tempo. Oh, è solo, eh. Ma lo devo solo lanciare, ragazzi. Cosyman. Oh! 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 Corri! Corri! È un treno, merci! Mamma mia, che scamorza che ha tirato! E però fa gol! Eccolo qui! Mani in testa per tutti! Peccato, ragazzi, che non ha la maschera. No, ma no, ricorre per il Liverpool. Tanto, ragazzi, i giocatori mancini la incrociano tutti. Tipo là. Oh! Ipnotizzato! Meret! Un gol in due partite per Cosyman, è vero, si è sbloccato. Mamma mia, che giocatore, ragazzi! Amici del Napoli, fate il biglietto per l'Istambul. Fermi, fermi, è il novantesimo, siamo scopertissimi. Siamo scoperchiati. Ah, quanto è bello. One Jesus! 1-0 a Liverpool! Le spugniamo! E mo' vi voglio al Maradona, venite al Maradona. Sta parata non ha senso. Sta parata non ha senso. Guarda, guarda, se la stava a butta dentro. Ma di quanto è uscita? Mali mortacci di Pippo. Vabbè, Allison, non è bastato. Uh, addirittura questi giocano con Luca lì davanti. Noi siamo forti, siamo pronti, siamo a casa. Simulazione veloce per... Un 2-2, Zambone, Cosyman. Vabbè, però, dai. Certo, avevo preso gol da Luca. Luca che penso non abbia mai giocato quest'anno all'Ajax. Siamo ancora primi. Io, ragazzi, gli do il beneficio del dubbio. Ancora. Victor, Cosyman, Lozano, Parascheglia. Come ha giocato? Malissimo, ragazzi. Se non muovo io, gioca male? Perché c'è bisogno del cross. Immaginate, ragazzi, effettivamente uno dei due metri non vive la stessa vita. Ragazzi, io farei qualche cambietto. Giochiamo con Politano, a destra, a sfruttare i cross. No, non posso cambiare, ragazzi, la squadra è quella. Ho fiducia nell'Apoli. Vai, Victor, Cosyman. Attenzione, 2-3, pazzo con il Rangers. C'erano 0 punti. Rachmani, Politano e Cosyman. A suggellare la vittoria. La prossima non serve a niente, la possiamo anche perdere. Io, nel dubbio, mando tutte le riserve. Ottime prestazioni da parte di Victor, Cosyman. Va del biglietto per Istanbul. Vabbè, siamo passati tutti e due, io direi biscottone. Allora, ragazzi, ho messo un po' di riserve, ma non mi interessa. Uh, oh, chissà, pure al Baradona. Di nuovo non segna Cosyman. Secondo me è troppo grosso. È un po' più difficile giocare, c'ho stessa sensazione. Passiamo. Il gruppo come primi e imbattuti. Adesso vediamo chi peschiamo. Allora, il Napoli, dobbiamo dire che nei sorteggi è stato abbastanza fortunato. Real Madrid. Mannaggia il cazzo. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Non vi preoccupate. Allora, abbiamo pescato purtroppo il Real Madrid. Chelsea, Paris Saint-Germain. Interporto. Ma guarda sti sculati. Ci poteva andare peggio con Liverpool, Bayern Monaco. Siviglia, Leverkusen. Milan City. Lipsia, Olympique, Marsiglia. E Juventus, Spurs. Mancuna è andata così. Va bene tutto. Hazard, Rodrigo, Valverde. Questa partita si deve vincere. È il bello della Champions League. Siamo a Madrid. Sarebbe stata un'ipotetica finale di Champions tra Real Madrid e Napoli. Se tutti e due avessero passato i gironi, fossero arrivati fino in fondo. Questo è un peccato. Sinceramente tra Milan e Napoli vedevo un po' il Napoli un pelino avanti. Però c'è la mistica nel calcio. A proposito dei mistica, parliamo proprio del Real Madrid. E il Real Madrid è proprio l'emblema di questo, no? Che a volte i valori in campo, quello che sulla carta sembra andare in una direzione, poi in campo va da tutt'altra. E il Real Madrid, se pensate a quello che ha fatto con il Manchester City l'anno scorso, che ha visti trionfare in finale, c'ero anch'io vicino al fratello di Vinicius, che è uguale a Vinicius. Ma detto questo, pensavo che il Napoli potesse avere un leggero vantaggio sul Milan, ma il Milan in Champions League è tipo una roba che non si tiene. Però occhio al limone culone. Io qua lo dico, ragazzi, lo ripeto, secondo me. Se l'Inter va in finale, partita secca, occhio al limone culone. In Coppa non lo fermi, eh. Comunque, abbiamo un Real Madrid che schiera un tridente, che io non schiererei manco a calcetto. Capiamo il perché, magari si sono fatti male qualcuno, non lo so. No, Vinicius sta in panchina. C'è pure Asensio in panchina. Non c'è Benzema, però. I will take it. Non so perché ho messo la maglietta gialla, non si capirà niente. Noi dobbiamo fare affidamento su Osiman Gigante. Eh, ok. Chiamenini. Porco due Chiamenini. No, 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 no. No, da Sard non lo posso accettare, ragazzi. Lo rigioco, albero. Muoviamo tutta la squadra, eh. Occasione di cross per il Napoli. Potrebbe essere la nostra giocata, eh. Abbiamo uno alto due metri. Eh, insomma, se noi la pennelliamo noi, chi può pennellargliela? Eh, Varasche. Varasche. Funzione per il Real Madrid. Qua, ragazzi, io mi prendo Osimena. E spero. Dammo Osimena. Ok. Eh, dammo Osimena. Eh, Meret, andò la presa. Affan moch. Va bene, va bene, ragazzi. Ci siamo salvati. Alla Rachmani che la pennella. Verso Osimena che la stu... Sì, che la stupa. Uh, eccolo, Victor. È il tuo momento. Aspetta, aspetta. C'è pure Faraschegliela tutto solo, eh. Beh. Ma che schifo è! Che schifo è! No, ragazzi. Sti momenti clu giocati con tutta la squadra sono molto più difficili. Eh. Uh, Meret. Spazza, spazza, spazza. Via, via, via. Giusto. Oh. Eh. Oh no. Eh, Rachmani! Si è addormentato nella beata speranza. Fate questo in memoria di me. Bravo, bravo, Olivier. 81esimo. Ancora calcio d'angolo. So punti. Resistiamo perché a Madrid ce posso stare. A Madrid ce posso stare. Vai, Rachmani. Vai in cielo. Zampone. Zampone! Che cazzo fai? Vai! Mamma mia, ma lo stavo a fare da solo. Calcio di rigore. Osimena. Va, Victor. Rossimena. No! No, l'avevo battezzata bene all'inizio. Eh, vabbè, ragazzi. Se è alto due metri sul dischetto, non significa niente. No, potevamo stare 1-0. Era preziosissimo. C'è sempre la partita di ritorno al Maradona. Ahia, ragazzi. Hanno recuperato Benzema, Vinicius e Asensio. Ci abbiamo la mistica. Eccoci qua. Siamo allo stadio Diego Armando Maradona. Gremito per sentire l'urlo della Champions League. Napoli-Real Madrid. È il ritorno. Il Napoli che ha perso un'occasione. Poteva stare in vantaggio oggi e giocarla in maniera più serena, non credo. Però sicuramente con più di un risultato non fa niente, ragazzi. Cioè, se vuoi passare qui, se vuoi vincere, devi passare attraverso tutto. E eccolo qua. Osimena. Un giocatore che ha subito il trattamento. Guarda, guarda. Puoi rimanere di davanti. Un gigante. Puoi capire che a fianco c'ha un politanno che sembra tipo la custodia, no? Vai. Real Madrid è già in attacco. Mi aspetto a una partita di sofferenza. Mi vado a mettere il turbante? Spero di no, dai. Spero di no. Noi ci abbiamo Victor. Victor Osimena che ha tanta voglia di riscatto. Uh, Kim, Kim. Eh, Kim. Varaskelia e Stolidiano hanno fatto assolutamente nulla. Però vabbè ci sta, ragazzi. Dove sta, Rosimena? Ah, ok. Cioè, stiamo già a centrocampo. Guarda come stanno spaccate le squadre. Grande, Zelisky. Via, via, via. Spazzare. È uno di uno. Asensio contro Mario Rui. Tienilo, tienilo, Mario Rui. Mario Rui, il maestro. Vai così. Falcio di rigore. È scientificamente provato. Che Karim The Dream. Ma sbatacchi a sinistra. A incrociare. Zoom. Ma se è un muro. Victor Osimena da solo. E adesso lo dobbiamo punire, ragazzi. Contro Carvahue. Sì. Vai, Giorgiano. Vai, Giorgiano. Incrociala. Farascheglia. Su assist. Del duo vincente. Al Maradona. Guaradona. Segna lui. Diamoci la mano perché veramente Meret sta a fadde tutto. Ancora Guaradona. Osimena. Mettite a correre, Osimena. Vai, Osimena. Guarda quanto ci mette. Prende velocità. E allora tiro io. Palo. La sfortuna. Kim contro Rodrigo. È già fatta. Tranquilli, è fatta. De uomo. De uomo. Eho. Mi hanno messo a mezzo. Io voglio capire. Sull'1-0 dove cacchio andate? Rodrigo attacco. Gioavamo tutti in attacco e via. Il maestro contro il pallone d'oro. Bravo maestro. Ci può stare 1-1 al Maradona. Contate questi. Però Mario lui. La va a pennellare. Ma perché non Suosimena? La vuoi sapere? Bravo, bravo, bravo. Sto a soffrire io, ragazzi. Sto a soffrire fisicamente, ve lo giuro. Si va i supplementari. No, si va i rigori. No, dai, ragazzi. Ho già dato dimostrazione di non saperli battere. Parte. Osimena. Calmi, ragazzi. Respirate. Meret è un pararicori. Meret. Guarda come devo battere i rigori io. Lo zaino. Parte. Non so. Non c'è la tratta. Oh, mamma mia. Li para tutti. Sì, bravo Politano. Ragazzi, sto a sudare, veramente. E Tony Cross me la mette lì. Oh, lo sapevo che era centrale. No, Varas che... Se segna è finita. E no, l'hanno sbagliato di due per parte. Maestro, non me la sbagliare. Che sa. Che i mancini incrociano. Boom. Va bene, Mario lui. Ed SM Red. È tutto sulle sue spalle. Contro Federico Valverde. Azz, Beppe. Ragazzi, ho depauperato una cosa che avevo in controllo. Bravo. Bravo, capitano. Bravo, capitano. Un scugnizzo. Ci va a venire, ci va a venire, ci va a venire, ci va a venire, ci va a venire. Buttati! Sì! È una macchina da guerra questo portiere. E tutti, tutti, no, ma il meretto è scarso. Lo vendiamo allo Spezia. Ma che vendete? Cosa vendete? Dove lo mandate a questo? Ho parato tutti i rigori, ho parato. Che rigore del merda ha battuto, ci va a venire? Doveva essere un po' infame. Guarda, guarda. Guarda che rigore orribile che ha battuto. Ma che è sta roba? Una palombella, meretta. Ci mette la mano per i fotografi. E poi dice du, du, du. Passa il Chelsea, quindi non c'è speranza per il Paris Saint-Germain. Te vince la Champions League. Passiamo noi ai rigori. Passa l'Inter. Passa il Liverpool. No, 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 passa il Bayern Monaco. E poi passa il Manchester City, purtroppo. Passa l'Ipsia. Passa la Juve. E poi passa il Siviglia. E posso dire che se siamo fortunati, ma non lo saremo. Napoli-Siviglia. Che se fosse Europa League sarebbe più preoccupato. Ma siamo in Champions, quindi ce la potremmo quasi fare. Vediamo quali sono gli altri accoppiamenti. Inter Chelsea, Juve-Lipsia. Sidi-Bayern-Goto. E raga, stiamo là. Non dobbiamo però pensare che è tutto fatto. Insomma, ragazzi, guardate che formazione questi. Mi simulo la prima partita. Ho fiducia. Forza Napo. Oh, 3-3. Meno male che non ci stanno i gol fuori casa. Perché sennò stavamo nell'Iquame, proprio. Doppietta di Zelischi. E poi qui c'è Valascheglia. Papu Gomez ci recupera. Così ben. Stai a farire, stai. Allora, ragazzi, ci giochiamo i momenti club. Ok, ok. 3-3 all'andata. Nessun problema. Ce l'andremo a prendere al Sanchez-Pizquan. Lo stadio del Siviglia. Dobbiamo far fuori un'altra nobile spagnola. Questa volta in Andalusia. Anche noi che andate a rivivere la storia di Napoli, no? Il regno borbonico che ha governato sulla città di Napoli e non solo. Insomma, quindi c'è un doppio filo pure storico. Vabbè, ma noi non ci interessa, ragazzi. Perché noi abbiamo un gigante lì davanti. E credo che dovremmo cominciarlo un po' a sfruttare. Quanti cosa l'ha fatto Osiman in questa campagna? Eccolo qua. Adesso è il momento, caro Guglielmo. Victor. Vabbè, Osiman. Diciamo che per l'importanza di quel calcio di rigore che stavi per tirare. Abbiamo capito che tu i rigori li devi di batte, vabbè. E allora vai, Lozano. Mettivi a correre. Facci vedere le tue do... Dai! Osiman, corri! Lo fa tutto da solo. Vabbè, gli ho tirato uno straccio tragico qui. Lozano! Bonu! Non è bonu a parare a quanto pare. Sai che c'è? Non c'è la maschera. È quello il problema. Ragazzi, dobbiamo chiudere la mela. Il cocco, la mela. Raghi, dice 97 anni. Oh no, oh no. Eh! Kimminge! Ma dove sta Kim? Kim, ma difendi! Dai, Kim! Dai, muro! No, 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 tu non te ne andai, tu non te ne andai! Ok, muro. Ok, il muro. Papu Gomez, no! Tocca a noi, ragazzi. È quel cross. Ma noi abbiamo capito che non la dobbiamo crossare. Ma dobbiamo passarla. C'è la Raschelia. Che poi la darà a Cosiman. Che non sa stoppare il pallone. Così! Il tuo momentum contro Fernando. Porco giuda, ragazzi. Ma è un tronco. Ma è un tronco! Ma è un tronco gionco! Va bene, è lo stesso! 1-0! Magari dai momenti clou non riusciamo a vedere le potenzialità dei giocatori. Però, se continuiamo così, mi sa che qualche partita da giocare ci scappa. Vai, però questa era in controller. Dai, Alcidi vince. Secondo me, moce becca Alcidi. Inter Napoli! Uuuuh! Quindi, chi vince va in finale. Sarebbe potuto succedere, ragazzi. E chi è l'altra? Sidi Juve! Te prego. Juve-Napoli in finale Champions League. È tipo l'apoteosi. E soprattutto perché se andiamo in finale Champions League contro la Juve. È matematico che l'avremmo vinta, no? Scherzo, amici, da Juve. La prima si simula e ce la simuliamo così, ragazzi. Guardando questa partita, che è un partitone, un partitaso, come si dice in Spagna. Eccolo. Parascheia! Eccolo! Così bene! Te l'ho detto che bisogna dargli fiducia. In mezzo a tre difensori centrali giganti come Bastoni, Skrignar e De Vrij. Vabbè, adesso però a difendersi, eh. A difendersi con le unghie e con i denti. Ragazzi, ce la dobbiamo portare a casa. Al Maradona tutto può succedere. Fino adesso, diciamo, MVP, Meret, eh. Così, man, dobbiamo capire quanti che l'ha fatto. Vai lo boh, vai lo boh. Sì, verso il maestro Mario Rui. Eh, no, è ingabbiato. Però questo è un gioco, occhio, ragazzi, che è l'inter nel gioco. Guarda, guarda Doomfries come... Attacca, bravo, barella, Cotto. Meret ancora. Noi dobbiamo ripartire così. Vi, 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 vi. Così, man! Eh, sì, Così, man. Che poi, ragazzi, ci pensate, questo Osimane sarebbe Osimane e Petagna insieme. Cioè, capite? È l'attacco che tutti avrebbero voluto. È vero o no? Mi dico Petagna, ragazzi. Mi dico Petagna. Uh, tagliela, tagliela, tagliela! Osimane! Osimane! Fate partire un soldato innamorato! Poi, ragazzi, già festa, eh. Cosimane, Cosimane. Napoli. Qui sta annichilendo l'Inter, eh. Quando è in vero, va detto che l'Inter è stata una delle... Ah, Lukaku viene impronizzato da Meret. È stata una delle poche squadre che ha battuto il Napoli in campionato quest'anno. Chi è stato? La Lazio, il Napoli, il Milan, ovviamente. E basta, credo, no? Vabbè, da adesso in poi, ragazzi, cioè, dopo che ha vinto lo scudetto, può succedere tutto oggettivamente. Oh, vada a Skelly, ragazzi. Guarda che giocatore! Per la tripletta! Zabbone! Ancora! Che sta succedendo? Infortunio leggero. Vabbè, tanto l'avevo sostituito già. Occhio, raga, occhio! E l'avevo beccato. Eh, vabbè, Mighitareano. E dai, e dai, e le cipolle diventano aglie. Zambone sta giocando un po' male, eh. Ci posso stare, ragazzi. Anche se questi ne hanno fatto un tiro. Vabbè, come noi, invece. Bene, va bene. Però adesso a difendere. L'ugno, stai! Ok. Zambone, grazie mille. Però deve entrare Tom Belé a mettere geometrie. Occhio, ragazzi, occhio, ragazzi! Fermate, Doom! Freeze! Ok. E adesso stanno tornando, eh. Il rugito. Il rugito dell'Inter. Il morso della biscia. Il biscione. Ah! No, no, due a due. Non me lo merito. Al novantesimo. Perché così scriptato? Non me lo meritavo. Vabbè, tutto sommato ci hanno avuto pure sei occasioni. Andiamoci a guadagnare, perdono. Quanto soffro l'Inter su sto gioco? Lo so solo io. Che ho giocato un se sa quante modalità carriera. L'Inter oggi può provare l'impresa e tornare dopo un se sa quanti anni in finale di Champions League. Dall'altra parte, però, c'è un agguerritissimo Napoli di Ozyman. Anzi, Cosyman. Un gigante. Qui addirittura Bobbo Ieri ci zittisce. Bobbo. Mo' ce penso io. Un giocatore che è stato determinante, un po' come tutta la squadra. Allora, questa è una partita vera. Il Napoli che stava 2-0 sopra, si è fatto rimontare 2-2, non promette bene come situazione, chiaramente. Ascoltiamo l'inno della Champions, caricandoci a Bestia. Ora Kim, ora Rachmani. Devono fare un po' di più lì dietro, eh. Come il maestro Mario Rui. Ma siamo pronti, ragazzi. Non c'è tempo per cianciare. Tanto le squadre sono quelle. Ho visto un 15 a Cerbi. Ma non ci interessa. Forza, Cosyman. Forza tutti. Giochiamo noi, ragazzi. Giochiamo. Guarda Zamora Anglissà. Ha giocato un po' male, eh. Se vuol dire, la partita precedente. Oh, quella difesa a 700. Guarda, sono in 70 in difesa. Dovremmo essere bravi a farli girare, ragazzi. Ecco. Oddio, si pennella. Oh, sì! Traverso. No, raga. Pronti via. Rovesciata da Cosyman. Ho già capito com' andrà, raga. Ho già capito com' andrà. Però la possibilità di andarci a giocare un'ipotetica finale tutta italiana sarebbe veramente troppo. Bravo, Kim. Lozano. Lozano, vi ricordate, ragazzi, che aveva detto all'inizio dell'anno? No, me ne voglio andare per una squadra che... VINCE! Eccola! Sedia, l'unico superstito di quel Napoli che perse lo scudetto in albergo. Zielinski. Impegnato su due fronti, insomma, sapete? Sia in campo che fuori. Zielinski. Qua, ragazzi, la do straccio frecico classico di mista e spettacolo. Papam. Vabbè, in porta però c'è Andano. C'è, ci stanno dando una piccola mano. Un'anna le viadute. E, ragazzi, sapete che punterei a fare? A parchiarcela un po'. Poi magari provare a simulare il resto. Oh, boom. Ehi, signore! Sbagliato. Ugoldo! Lucagone! Mi grazia! Qua mi ha detto proprio... Vai, bevi giù da Benurra. Sì, Dunfris che fa un passaggio in avanti. Impossibile, fantacalcio. Vabbè, ragazzi, mi sono distratto. Va bene, va bene. La gabbianella è il gatto. Il maestro non si su... Eh, vabbè, signore! Signore! Quello è fallo! Avviatolo, è quello là. E non ci credo, Mike. Guarda, guardali, guardali! Che culo ci hanno! Mi manano al bar, ragazzi. Mi manano al bar. Che devo fare? Abbiamo fatto tutta questa strada per fare in modo che il nostro percorso finisca qui. Eh, Cosyman. Allarga, la devi allargare. Quasi la riprende. Cosy Carco 2. L'ho detto, ragazzi, che gioca contro questi è in ammazzata. Ci abbiamo Victor. Però sta ingabbiato in mezzo a 200.000 persone. Victor Rosyman! Fuori gioco, mannaggia. Vabbè, vabbè, vabbè. Uff. Ma questa è mia, eh. Uff. Uff. Ma perché? Basta, andano, Mitch. Ma è quel paese. Ah, fuori gioco. Dei mando brogli, eh. Ma la stanno a rubare, eh. Sti arbitri della UEFA. Ecco fatto. No, vabbè, ma mettici le mani, oh. No, 4-1 al fine primo tempo, ragazzi. Grave, eh. Questi stavano senza le scarpe la partita prima. Eh, mo, ragazzi, è veramente... Non dico un possibile. Però sto a giocare comunque contro il computer, eh. Ma è una scolatina, queste cose così. Ecco lo Semen. Dai, dai, Victor. Dai, Victor. Bravo. Lo zano, lo zano, lo zano. Chi la porto? A Varaskelia. Ah, non è finita ancora il primo tempo. Ragazzi, non so come cazzo fare. Oh, Semen! Eh, guarda quello che ha preso. L'ho bombardati. Vai, Ficcia, vai, Ficcia, vai, Ficcia. Ah, fuori gioco, niente. Però è quella l'azione, ragazzi. L'azione è quella. Adesso ho messo un po' di modifiche al piano tattico. Perché, veramente, Spalletti. Cioè, Inzaghi l'ha fatto proprio il cappotto. Limone. Eh, ma il limone, ve l'ho detto... Ve l'avevo detto che... Eccolo, aspetta, aspetta. Stacca Starulotto! Eh, sì! Va bene, ragazzi. Scusate. Ci abbiamo dei gol da recuperare. Ve l'avevo detto che il limone Inzaghi, purtroppo, in coppa, è un fenomeno. Limone. Aspetta. No, ho sbagliato tutto, sbagliato tutto. Aspetta. Aspetta. Che creepio! Sto a soffrire, ragazzi. Sto a soffrire. Come sta pressa questo? Ma che te sta a giocare? La via di casa, oh! No, Robin Goh, senza no, eh. Ma come che asperina si fa, ragazzi? Dai, 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 ragazzi. È fattibile. Manca un gol. Manca un gol e la riapriamo. Parti, varasché! Vai, varasché! Vittor! Aspetta, aspetta. Riprendi la palla. Vai, Vittor. Riprendi di quella cazzo di palla. Sto sudando, ragazzi. Se recupero sta partita, la prossima non c'ho le forze per giocarmela. Tutto del là. Mamma mia, che piedi. Ragazzi, c'ha le stesse statistiche. Che cazzo non la faccio? Scusate. A forza di parlare. Mario. 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 Tutto del là. Tutto del là. No, devo fare ancora un gol. Allora, ragazzi. Scusate. Però vedete, ragazzi. Col fatto che ho messo i centrocampisti in arresta dietro. Almeno uno. Eh, non c'ho più i buchi di prima. Aspetta! Cosimen. Come cosimen, ragazzi. Non si muove. C'ha le stesse stats. Sta roba a me perplime. Sì, ho visto l'inserimento. T'ho visto! Sei più alto! Eh, sì. Dei testa. C'è degli annati. Dove ho segnato, dai. No, Zambone. Perdiamo pure Zambone. No, Zambo. No. E allora qua, ragazzi. Se fa la mostra del mister. Allora, fuori Zambo. Dentro Ragomino Giaspadori. No. 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 Ok. No, 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 raga. Dai, dai. Oh! 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 Ragomo! Ragomo! Giacomino! Il pressing costante! Il gioco che si banca! Poi, ragazzi, all'ultimo ho ripensato a Raspadori con la urbe che se gli mangiava tutti sti gol. Mamma, mamma, ragazzi, che roba. Guarda come gliel'ho piazzata. Sì! Ho dato tutto. È solo che mo' sto col pressing costante. Pure loro. Guarda, guarda come attaccano. E che gli è rimasta? Vincione a una schelia! No, ho fatto la stronzata, vabbè. Sono bravo, ragazzi. Lo desidero. Ah, me la pennella, me la pennella e me la mano in testa. Possibile! Me devo fermare, ragazzi. Me devo fermare. Devo fare pausa. Guarda là. Guarda, l'andogliela ho messa. Due metri del giocatore. Ve l'ho detto che serviva. Uno si man gigante. Uno si man gigante. Non ha manco saltato. E questo è il bello. L'andogliela ho messa. Ovviamente la prossima si perde perché ho dato tutto adesso. Victor Cosiman. Otto gol in dodici partite. Mischia, santo benedetto uomo! Mischia! Sei a sette, ragazzi. Cinque a quattro. Solo FIFA, ragazzi. Pressing costante. Gli ultimi quindici minuti è il bug definitivo. Qui Cosiman con tre gol in nove tentativi. Si fanno i complimenti. È finale. Eravamo in Napoli-Juve che se cotrebbe troppo. Sì! È Juve-Napoli! Ragazzi, è già nostra. È Juventus-Napoli. E siamo a Istanbul. Però pensate che noi non ci abbiamo Zambone. Eh sì. Mamma mia, loro proprio con la formazione tipo. Quella che gioca proprio su FIFA. Quindi giochiamo con Don Belé. E certo senza Zambo è tanta roba. Eccola, la Coppa dalle grandi orecchie. Siamo ad Istanbul. È la preparazione della partita più importante dell'anno, la finale Champions League. Ma la cosa bella è che è Napoli-Juve. Cioè, è una roba, ragazzi, che se dovesse succede davvero non c'è rivincita. Non lo so, non ci sarebbe nient'altro da dire. Non è solamente chi vince la Coppa. È chi vince tutto. Questo è tipo assopiglia tutto. È ruba mazzo. Mamma mia, ragazzi, davvero. Pensate se succede una cosa del genere. Cioè, io già adesso che dico. Ma come staranno quelli che ti fanno Inter o Milan che si devono rivivere di nuovo una semifinale Champions? C'è stata la finale Juve-Milan a Manchester, era l'Ultrafford. Finale Champions League, ma erano altri tempi. Questi si odiano proprio, capisci? Ridendo e scherzando da che era inutile, da che non segnava, da quello che vi pare. Osi Man Gigante ha fatto la differenza per il momento. Sicuramente la partita prima. La simulo, non me la posso giocare. Sto troppo a pezzi. Cioè, proprio non gliela faccio neanche a parlare. Ormai il mio corpo chiede perdono. Abbiamo perso, però. Zambone Anguissa gioca al suo posto Don Belè. Tifosi del Napoli, com'è stato quest'anno? Un po', un po' così. Suo analino della Champions. Questi due sono la coppia che scoppia. La coppia che ha portato gloria al Napoli dopo 33 anni. Che roba, che bello. Nessuno ci credeva. Eccole qui, i colori della Juve, i colori del Napoli. Loro, ragazzi, giocano proprio con la formazione tipo... Infatti, l'allenatore lì c'è scritto Max Allegri, ma non è lui, chiaramente. Bremer, Bonucci, Danilo. Cioè, addirittura la difesa a tre per Bremer. Noi siamo quelli, ragazzi. Si va. Allora, io vado alla simulazione. Vediamo se si mette proprio male. Entro, ma se stiamo lì, lì, giocheranno loro. Occhio che, ovviamente, la Juve nel gioco è devastante. Con Blaovic, Chiesa, Di Maria, Pogba e chi più ne ha più ne metta. Però noi abbiamo l'asso nella manica, che è Meret. Raga, Meret. Oddio. Meret ci ha salvato le chiappe più e più volte e Di Maria ancora Meret, ve l'ho detto. Possiamo fa' alza la Coppa a Joan Quadrato? Io direte no. Ecco, una z... Blaovic! Yuhu! Però noi, ragazzi, abbiamo il gigante Cosimen. Eccolo, Cosimen. Ah! Aspetta, l'ho batto io, ragazzi. La batto io, questa. Eh, però la dibatte fatto bene, Gribbio. Cioè, ha battuto un calcio d'angolo orribile. VIKTOR! La pareggia subito, la pareggia subito. Possiamo tornare alla simulazione. Sono tipo Carlos Santana di Oli e Benji, che entrava solo quando serviva. Che, che, che fallo è? Che fallo è? Attenzione che la Juve è su. Eh, vabbè, però Blaovic è un... Basta... Cioè, insegni mai, mo, te sei svegliato in finale Champions League. Aspetta, che riscendo in campo io, ragazzi. Calcio d'angolo è roba mia. Ok, ok. Eh, mazza. Più lontana, ma potività. La partita è al momento equilibrata, in realtà. Ti devo dire. No, Mario Lui, Albaretto. No, 3-1 così, ci vuole un quadrato, no. Ma che vuol dire? No, 4-1. Cioè, ma quante cazzo di partite devo ribaltare? Ragazzi, io non credo di riuscirla a ribaltare sta partita, 4-1. Facciamo ciò che si può, ma giusto perché la calcata è stata troppo bella, però 4-1 in finale Champions League. No, ma è vero, ragazzi, ma perché stiamo a giocare con Don Belè quando ci sta il mitico? Rago mio, Jasper. Errore mio, ragazzi. Errore mio. Bravo, Vicia. Ehi, quello è fallo, Albero, vabbè. E dove vado? Sta solo? Oh, sta solo. No! No, com'è stato possibile questa? Questa cosa è vergognesa, è vergognesa. Non è destro, Zelisky. No, raga, potrebbe essere 4-2 subito. Caspiterina! Bravo, Victor. Victor. Straccio fracico. E da lì, da lì non si può sbagliare, ragazzi. Straccio fracico, 4-2. Vai, Victor Rosimena. Ma devo dire che, a parte rarri casi, non abbiamo sfruttato l'altezza, eh. Ragazzi, sto tryhardando a bestia. Ragommi, non t'avevo visto, scusami. La penna... No! Pressing a tutto spiano. No, con la Juve, no, da non si può perdere. Fermatelo, fermateli, Maria nonna e zia. E porco... No! Ragazzi, ma se Kim non... No, poi va. 5-2 non si esulta. Vabbè, per me è come se fossimo 2-1, perché io 2-1 l'ho fatto. Guarda quanto ci mette Mario Ruvi per salire. Tira io una bomba! Bravo, bravo. Goal buggato, vai. Tripletta di Ozyman. Com'è ci pensa Mike. Come lascia? Ho visto. Poteva non bastare, vabbè. Guarda tanto sui bastardi, va. In 72. No! No! Ha vinto Ozyman! Ma ce l'avevamo uno altissimo. Sì, vabbè. Dici, perché perdi? Per questo motivo. Bravo, bravo. Non si fanno i propri giugneri i Rachmani, va bene. Vai, raga, che forse è finita la partita. Ah, no, è uscito Di Maria, pensavo... Ma perché a lui? Ok. Rachmani è uscito. Ok. Parti. Paraschelia! Sì! Sì, questa era una pennellata a Ozyman. Va, raga, li sto rincogionì. Arrivano da tutte le parti, da tutti i pori arrivano. Ma che cazzo a Oro la faccio? Cosa cazzo a Oro la faccio? Sì? Pennellata a Ozyman, no? Basta, basta, basta. Già ne faccio più, raga. Qua devo colpire la testa, non l'ho fatto. Pum, tiro vega. E guardate quanta gente c'era dentro l'area. 27.000, ho messo tutti in attacco. Qua è la simulazione, 82esimo. Picco chiesa, non me lo fa, eh. Porco due, me fai collo, me incazzo come un toro. No, 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 non me lo fate, non me lo fate, non me lo fate, non me lo fate, non me lo fate. Ok. Ragazzi, l'abbiamo riadrizzata. Riprendi. Tempi supplementari. Anzi, tempi supplementari. Non so se c'ho tutto in avanti, ma non so, non mi frega niente. Ragazzi, a tenere duro. Abbiamo ribaltato un 5 a 1. Oh, ragomino, ragomino, ragomino. Oh, tutto da là il maestro. Oh. Oh, non c'è il ca... Ragazzi, ne la faccio più, veramente. No, di Lorenzo, capitale. Ma che chiave presti? Ai calci di rigore la perdiamo, eh. Però complimenti alla Juve dimostra che... Rimane in parola. Che stanno a fa a lanciarsi i palloni? Che sta succede? 8 minuti, ragazzi, e poi saranno... No, non me lo segna adesso, non me lo segna adesso. Ragomino, ragomino, già spatori, già spatori, già spatori. Famo noi, famo io, noi, famo io, noi, no. Ragazzi, entro in campo. Loro ci hanno portato qua e loro ci portano via. 30 secondi. Sono entrato io, ragazzi, la difendo io questa. Oh, fermamoli, eh. Bravo, bravo, Albitro. Ma giusto così, giusto così. Finale ai calci di rigore, Juve Navoli. Così bene, l'ho ribaltata, ma non gliela faccio più, ragazzi. Ragazzi, Arcadius Milik. Ah, ma è imbrugliato. Ma io so una pippa ai rigori, ragazzi, si sa. I rigori soprattutto. Mamma mia. Pulibali sia la vita mia. Eh, no. Incrocia Bonucci. Varebbe il rigore, Victor. Victor, centrale pure lui sotto la traversa. Rabio, rabio, rabio l'ancrocia. Oh, vabbè, tutti là, ma sta da tirare. Mo' me ce butto. Lo zaino di m***a. Mi butto là, ragazzi. Mi butto lì, mi butto lì. Me la tirate tutte lì. E mo' me la tirate là. Paraschelia, sa che non la può sbagliare. No, no, Paraschè. Riuscirà il Napoli con cosi man gigante a vincere la Coppa dalle grandi orecchie. Vabbè, regà, è andato troppo veloce.